good morning si qui sono diciamo le nove e si questo è uno dei report più presto che faccio quelli più presto si contano proprio sulla punta delle dita ieri ho raggiunto il culmine erano le otto penso appunto sia stato proprio il più quello ho fatto più presto in assoluto come dicevo ieri questa è un'antica abitudine quella di svegliarmi presto che ho perso da molto tempo che secondo me dovrei anche ritornare a prendere secondo me è molto più interessante alzarsi addirittura anche alle 4 del mattino che fare il contrario mi faccio io molto spesso a dormire alle 4 alle 5 it's me 22 2022 and it's a Sunday here in Nipols middle morning in this moment but it's still right now 75 and 25 at around 24 celsius and this means that it's a today really 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 soft like in these days in this period much over because it seems more summer climate and spring climate as regarding video tools as always I don't know if I'll do it in realtà ancora quello di venerdì e quello di ieri da caricare ancora retrati per cui penso valgano quelli come video pensieri oggi but in the case you are interesting also eyes open anyway I see and you all just see from the window non so se si vede bene but I think that it's after new temperature in realtà non credo salirà cioè sicuro potrebbe mantenersi lo stesso livello ma anche scendere ma comunque non siamo dei manchi su questo ovviamente vedremo but the really important thing in a negative point for me is that today we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine almeno penso proprio di sì ma non ci possiamo lamentare perché praticamente abbiamo avuti come sapere come si mi avete seguito per tutta la settimana proprio per una settimana se non erro con those beautiful blue skies quindi in golden sunshine per cui va bene così anche se oggi è una via di mezzo io credo potrebbe anche piovere il pomeriggio ma vedremo poi la genero casuma il report di domani speriamo migliori ma non credo vedremo a questo punto spero rettamente domani comunque per cui save this so from the mythical wind with the orange red blue green water curtain and it's green roller shooter behind me on the top not visible in fact in the shot and finally from the mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people follow the channel and the reports un saluto a tutti and also i hope you all have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brontola io oggi sicuro mi consolerò molto e più perché come dico io quando il tempo è più brutto la colazione è sempre più una consolazione rispetto a quando il tempo è normale c'è sempre una consolazione ma quando il tempo è brutto è ancora più bella secondo me la mia visione spero possa essere lo stesso anche per voi se il tempo è così alle vostre parti i'll see you in the video too so two days ago or yesterday or tomorrow